Buonasera, buonasera a tutti voi dal TG1. È guerra di numeri sull'esito del primo turno delle amministrative protagonisti PD 5 Stelle. Grillo dal blog canta vittorie ed accusa Renzi di aver dato cifre false. Ribattono i Dem rispetto al 2013, dice Orfini. Il movimento perde mentre il centro-sinistra cresce. Roberto Kinzer e poi Marco Fritella. Tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico scoppia la guerra dei numeri. E così quando è già partita la campagna elettorale per i balottaggi tiene banco l'analisi di quanto successo al primo turno. È Beppe Grillo ad accendere la miccia. Sul blog si rivolge a Renzi e contesta le affermazioni fatte ieri dal Premier segretario in conferenza stampa. La spalata grossa, solo 18 candidati democratici vincono al primo turno, si legge. Poi rilancia con un altro post, snocciolando i dati degli eletti e delle liste e ringraziando gli elettori che, scrive, fanno del movimento a livello nazionale il primo partito con 956.552 voti. Numeri alla mano, il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica a Roma e Torino. Il numero totale su tutto il territorio nazionale dei voti al Movimento 5 Stelle è superiore a quello del Partito Democratico. La realtà è incontrovertibile che siamo l'unica forza politica alternativa a Matteo Renzi e i cittadini hanno dimostrato di esserne consapevoli. I numeri hanno una loro testardaggine replica Matteo Orfini sulla sua pagina Facebook e parlare di Vittoria Grillina è ridicolo, anzi sottolinea quello che è di certo e che il Movimento perde voti rispetto al 2013 e solo in pochissimi casi nei comuni arriva il ballottaggio. Un voto che andrebbe giudicato piuttosto per la sua complessità. Impossibile, dicono i Dem, anche fare un conto preciso sul risultato delle liste, vista la presenza di tante liste civiche, espressione dei Dem del centrosinistra. Quindi i numeri secondo il PD. Nei capoluoghi e nei comuni sopra i 15.000 abitanti il PD è primo partito con 940.348 voti senza contare le liste collegate ai candidati sindaci. Il Movimento 5 Stelle è avanti perché nei piccoli comuni il PD tradizionalmente non si presenta con il proprio simbolo ma con liste locali. I numeri sono chiari, il Partito Democratico ha eletto sindaci già al primo turno anche in capoluoghi di provincia, negli altri comuni sopra i 15.000 abitanti va al ballottaggio spesso in testa con i propri candidati sindaci. Il Movimento 5 Stelle su 1.346 comuni va al ballottaggio in 17 comuni. Tutto il resto non tocca palla. Questi sono i dati, le chiacchiere stanno a zero.